Buonasera, oggi voglio parlare proprio di te che stai guardando questo video. Lo sai che dentro di te c'è un artista che ancora non conosci? Sembrerà strano detto così, ma è proprio così. Ognuno di noi ha dentro qualche cosa di magico, una scintilla, un lume che non deve perdere nel corso della vita, perché è importante tenere sempre viva la luce della creatività. Perché non è vero che siamo tutti uguali, siamo tutti uguali biologicamente, ma ognuno ha una propria originalità. Per cui non imitare, sii veramente originale, sii te stesso, se hai paura di fare qualcosa falla, se hai paura del giudizio delle persone vai avanti, se senti dentro di te che una decisione è giusta prendila, anche se tutto il mondo in questo momento ti sta dicendo che stai sbagliando. In questo modo la tua scintilla non si perderà, in questo modo la tua originalità non verrà seppellita da montagne di nozioni, perché nella scuola abbiamo una sorta di paradosso scolastico. Chi è il più bravo a scuola? Il più bravo è quella persona, o la più brava, è quella persona che sbaglia meno, per cui veniamo quasi terrorizzati dall'errore. Mentre invece poi nella vita lavorativa, anche nella vita quotidiana, nelle nostre relazioni, è importante invece imparare dagli errori. Se non sbagliamo non abbiamo la possibilità di imparare e di apprendere assolutamente nulla. Invece l'esperienza, cioè sbagliare spesso e imparare spesso, vuol dire crescere velocemente, vuol dire non perdere l'originalità, vuol dire rimanere se stessi. In un mondo dove tutto invece è improntato più all'essere, cioè scusate, più all'avere che all'essere. L'essere sembra quasi passato in secondo piano. Invece è assolutamente vitale per la salute psichica, anche fisica, proprio di rimanere noi stessi. Cercare di rimanere sempre centrati e andare a cercare la nostra parte più profonda che è seppellita, ripeto, sotto questa montagna di nozioni che abbiamo imparato in tutti questi anni. Ora non voglio dire che tutto quello che abbiamo imparato fino adesso non serve, ma quello che abbiamo imparato, se è vero, deve vibrare dentro di noi. Dobbiamo una notizia, una nozione, dobbiamo sentirla nostra, dobbiamo sentire che ci dà gioia, che ci dà felicità. Allora fa parte di noi. Io mi fermo qui, vi invito a iscrivervi, a seguirmi sui miei canali social e a contattarmi per consulenze online alla mail indicata. Un abbraccio e a presto.